Sì, è vero, l'anno passato abbiamo una tremenda attività di helfer, un giorno di salute, che durante il giorno abbiamo attenzato un pubblico grande, con una bimba diversa, parte, con un giorno di uo, di oreo, di uo, di txac, eccetera. E l'anno passato abbiamo ripetito e spero che sia un'attività annuale per l'arroba Lions Club, e anche se è un'attività di focus per l'arroba Lions Club e per la salute. E' già qui, non si è cambiato bene per la Università di Saffer, guardando che sia la località di Teicaba, una località più grande e più spaziosa, una l'attività di equipaggio per cui non abbiamo mai visto, e anche la sala di esperanza, la l'attività di acqua è un'attività di condizionato, e quindi è un ambiente più agradabile per il gioco, per il giorno, per il giorno, e poi è un'attività di condizionato, è un'attività di condizionato di condizionato. Giassah bravo, na Saviur University, na Santa Helena Strat, è cominciato di nuovo rimanita, ti è due ore, non stappi, ci sono pazienti, ben treppan, registrare, perché non stingo la quantità di gente che noi portano, perché non stanno capendo due ore, perché non stanno capendo due ore, però due ore non stanno capendo. e questo dipende da sezione, come potete prendere, per fare il rischio, quanto rende, quanto è dura, per non fare e testare per ogni persona. Tambi noi stiamo chiedendo, preferibilmente, se potete in cheio di qualche, per esempio, un po' ovo, o orella, o perché viene a se potente attacchare, il focus, il rischio, se potete in più di uno, è possibile, l'oggete, però la nostra PDC, se non è necessario, dobbiamo una altra opportunità, per rischio, e ci si può potete attendere con il più sopiente possibile.